Nel 2022 sono nati diversi software di intelligenza artificiale generativa che permettono di partire da un semplice testo, da un prompt, per generare media sintetici. Testo, video, immagini, suoni, codice. Nell'ambito del text to image, la generazione di immagini da un input testuale, ti ho già parlato in un video precedente facendo riferimento a come utilizzare Meet Journey. Oggi vediamo quei software che possono essere molto utili per rinnovare con un tocco creativo le foto dei nostri profili sui social media. La prima applicazione che ti mostro è Lensa AI, una applicazione per iOS ed Android che si può scaricare gratuitamente e qui accedere poi ad una funzione chiamata Magic Avatars, proprio per creare avatar partendo da una serie di foto selfie caricate dall'utente. Il funzionamento è semplice perché il processo è completamente automatizzato e gestito da smartphone. Per prima cosa bisogna scegliere la tipologia di personaggio, umano o animale, poi il genere e di seguito lo stile, fumetto, pop art, personaggio storico, fantascienza e così via. A questo punto bisogna caricare 20 autoritratti con il volto in primo piano. Poi ci viene chiesto di scegliere il pacchetto d'offerta. Si parte da pochi euro per ottenere 50 avatar, ossia 5 variazioni di 10 stili che si possono scegliere. Dopo una ventina di minuti i risultati vengono notificati via app. Devo dire che mi sarei aspettato di più visto che l'azienda è presente sul mercato da più tempo delle altre, oltre ad essere più strutturata. La seconda applicazione di cui ti parlo si chiama avatar AI e si può utilizzare da web con un browser. Basta andare all'indirizzo avatarai.me. La prima cosa che viene chiesta è di pagare per il servizio che costa 28 euro per ottenere 120 avatar ad una risoluzione di 4k e 400 dpi buona per la stampa. Il pagamento è one shot per cui non ci sono vincoli di abbonamento e spesso vengono applicati degli sconti temporanei. Appena hai completato il pagamento bisogna scegliere fino a 15 stili di immagine che saranno quelli che vorremmo applicare all'elaborazione. Infine si viene guidati nel processo di caricamento delle foto. 10 primi piani, 3 di lato, 5 a mezzo busto e 3 a figura intera. Non si possono caricare le foto tutte insieme. I risultati dopo circa un'ora vengono notificati via email e sono scaricabili in formato zip. Nel mio caso il sistema ha fatto un buon lavoro negli stili nettamente definiti come quelli pittorici, deludente negli altri. Il terzo servizio che ti propongo si chiama Astria ed è utilizzabile semplicemente da web con un browser e si definisce un servizio di generazione di immagini artificiali tailor made, ossia su misura. Pagando 5 euro una tantum si ottengono dei crediti da usare per la generazione delle immagini. Una parte viene consumata per l'addestramento del modello di intelligenza artificiale e il resto ogni volta che si scrive un prompt che genera otto immagini. Il procedimento prevede l'inserimento di un titolo del progetto, la digitazione di un class name da associare al progetto, può essere semplicemente man se siete un uomo, sarà utile nella fase di costruzione del prompt e il caricamento di 10-20 foto del soggetto di cui si vogliono ottenere delle variazioni, può essere un selfie o altro, ad esempio la foto di un prodotto. L'elaborazione, ossia l'addestramento della macchina sulla base delle nostre immagini richiederà una mezz'ora. Al termine dalla pagina Toons si potranno vedere i risultati generati autonomamente, senza indicazioni, dal software. Ma il meglio si ottiene quando siamo noi ad inserire i prompt desiderati, ossia la descrizione sulla base della quale vogliamo che le immagini risultanti vengano modificate. Questa è la fase più creativa, quindi ci si può sbizzarrire con le descrizioni. L'importante è iniziare il prompt con il nome della classe, che abbiamo scelto in precedenza, preceduto da SKS. I risultati non sono immediati e sono variabili, alcuni strabilianti, altri meno, dipendono molto dalla nostra capacità di azzeccare il prompt giusto e di giocare con i parametri messi a disposizione. Per farlo bisogna andare su Advanced e variare gli step, il numero di seed o aggiungere dei prompt negativi per escludere degli elementi dall'output finale. Bene, se deciderai di provare alcuni di questi servizi o magari ne conosci altri interessanti, scrivilo pure nei commenti e se ti va di rimanere aggiornato sulle novità, l'incrocio tra marketing e tecnologia, iscriviti al canale. Alla prossima!